Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da D'Agospia, Alberto Matano sarebbe furioso con Mirta Merlino per le sue recenti mosse strategiche. Da quando Barbara D'Urso è stata esclusa da Pomeriggio 5, Matano ha dominato gli ascolti tv con La Vita in diretta, battendo regolarmente la Merlino. Questo avrebbe portato la collega di Mediaset a tentare di risollevare i suoi ascolti per la prossima stagione. La Merlino avrebbe cercato di shippare gli autori e gli inviati del programma di Matano, un'operazione che, nonostante non sia riuscita, ha comunque irritato il conduttore di La Vita in diretta. Inoltre, la Merlino è riuscita a portare alcuni opinionisti del format di Rai 1 a Pomeriggio 5, aumentando la tensione tra i due. Questa rivalità è stata evidenziata anche da Matano in un'intervista, dove ha sottolineato come La Vita in diretta sia diventata una fonte di ispirazione per la concorrenza, citando casi come quello di Anna Pettinelli, passata a Pomeriggio 5 con un aumento significativo del compenso. Nonostante questi tentativi, La Vita in diretta continua a essere uno dei programmi preferiti dal pubblico italiano, portando la Rai a creare una versione weekend del programma per sfidare Verissimo di Silvia Toffanin. La nuova edizione sarà condotta da Marco Liorni affiancato da Emma Daquino. Nonostante i risultati deludenti di Pomeriggio 5 sotto la conduzione di Mirta Merlino, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di riconfermarla per la prossima stagione, sostenendo che i dati di ascolto sono in linea con quelli della scorsa stagione.